Sicuramente dopo la riunione che abbiamo fatto in commissione a Via Verdi era doveroso fare un sopralluogo e capire poi in modo reale quali sono le difficoltà perché la città ha bisogno di questo parco giochi, i lavoratori stanno in attesa di giustamente riprendere a lavorare e quindi stamattina dobbiamo capire in modo definitivo dove ci sono le difficoltà e come poterle risolvere. Quindi il mio impegno stamattina è quello di capire e risolvere la problematica per far partire questo progetto. Poiché diciamo in quella commissione ognuno difendeva la sua posizione, questo sopralluogo serve per capire poi in modo definitivo dove sta questa lacuna e dove ci sta questo cono d'ombra per non far partire questo progetto. Quindi dobbiamo capire di chi sono le responsabilità.